Una importante due giorni al Palo d'Andrea di Ravenna, la prossima settimana per il settore peschicolo, giovedì 23 e venerdì 24 ottobre, con l'appuntamento al 27esimo convegno nazionale di tutta la filiera, a cui sono invitati imprenditori italiani, spagnoli e greci, leader nel settore in Europa, il professore del Dipartimento di Scienze Agrarie dell'Università di Bologna, Silviero San Savini, e l'europarlamentare coordinatore della Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale, Paolo De Castro. Principale tema del dibattito organizzato dalle Camere di Commercio di Ravenna e Forlicesena e dal Centro Servizio Ortofrutticoli di Ferrara sarà la peschicoltura in relazione al quadro economico produttivo nazionale e globale al termine di un'annata durissima per la frutticoltura italiana. Spazio verrà inoltre lasciata alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica, allo studio dei mercati stranieri, soprattutto i mercati come Germania e Nord Europa, dove l'Italia esporta maggiormente, o come i mercati spagnoli e greci, capaci di regolamentarsi con costi di produzione inferiore rispetto a quello italiano. La ventisettesima edizione di questa iniziativa è un appuntamento importante, è un appuntamento che coinvolge le due Camere di Commercio di Ravenna e Forlì, che hanno organizzato questo evento insieme al CSO di Ferrara e quindi sarà un'occasione di riflessione anche sull'attività e sullo sviluppo dei settori peschicolo qua in Romagna. È un appuntamento che coinvolge non solo i centri di ricerca, l'università, gli operatori economici, ma soprattutto anche forse politiche, quindi è un'occasione di riflessione sulle prospettive. Quest'anno è stato un anno abbastanza complicato, molto difficile, non soltanto nel settore delle pesche, ma anche in altri settori, e quindi c'è la necessità di fare un po' il punto della situazione per guardare un po' al futuro. Speriamo che il 23-24 vengano anche avanti indicazioni più certe sulle prospettive. Grazie a tutti.